Dopo il sindaco di Arezzo, presidente di Ato, adesso sono i delegati territoriali RSU FIT Cisla delle province di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno ad intervenire su Sei Toscana e rilanciare il progetto di Area Vassa con una serie di proposte da condividere con i lavoratori e presentare al tavolo delle relazioni industriali che coinvolgono Regione Toscana, Ato Toscana Sud ed ovviamente la stessa Sei Toscana. A prescindere dalle vicende giudiziarie, politiche e societarie che la riguardano, leggiamo in un comunicato, Sei Toscana rappresenta innanzitutto per il nostro territorio un valore dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Espressione di questo valore sono i 1500 dipendenti del comparto, fra diretti e indiretti. Nessuno di noi ha la verità in mano, proseguono i sindacati e per questo propongono un percorso condiviso, un progetto che riunisca sindacati dei lavoratori, soci pubblici e privati, regione comune per arrivare ad un piano industriale concepito solo dopo la stesura definitiva del nuovo piano d'ambito da parte della Regione Toscana e la conclusione della fase transitoria. Ai nostri amministratori locali ricordiamo, chiudono sarcasticamente i sindacati, che la campagna elettorale è finita. Ai soci industriali ricordiamo che le finalità ultime del servizio sono la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.